Iniziamo pure la conferenza stampa di Mr. Zironelli prima di Lecco Padova e iniziamo con le domande. Matteo Bonacina. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora siamo arrivati, non direi al dubbio perché siamo ancora agli antipodi di questo, all'inizio di questo campionato per meglio dire. Bene, quindi per voi rimane il test più provante con tra l'altro un reparto almeno nella zona centrale in sofferenza, quindi ci arrivate anche con qualche punto di domanda. Sì, siamo in difficoltà anche dietro, però fa parte del percorso. Siamo agli inizi, come hai detto, però è un grande test per capire a che punto siamo, quindi sarà importante per noi confrontarci con una compagine che in questo momento ha perso due punti su tutto il bottino che c'era delle sette partite, di conseguenza sarà una partita durissima, però ci siamo preparati bene e cercheremo di fare il massimo e di far bella figura e poi devono venire anche, speriamo, qualche punto. Sì, è una partita facile da preparare da un punto di vista psicologico, perché insomma gli stimoli vengono da soli, però non bastano gli stimoli. No, certo, noi dobbiamo sempre tenere presente le cose che non hanno funzionato e quindi i nostri difetti, perché si deve sempre partire da quello e i nostri pregi, non ci dobbiamo trastullare sui nostri pregi, come può essere stato domenica dove abbiamo fatto bene, però non si può andare a chiudere dei cross in 7-8 dentro un'area, perché poi se prendi le ripartenze non è che ti puoi tanto lamentare, di conseguenza dobbiamo essere un po' più attenti, però siamo anche consapevoli del fatto che fa parte del percorso nel momento in cui una società, una squadra fa minutaggio e ci sono dei ragazzi giovani e l'avete scritto voi, che i nostri dieci gol sono stati fatti da sette giocatori giovani che non sono dei 99 o dei 2000, ma sono dei 2001 o dei 2002, quindi bisogna andarci piano a caricare le responsabilità, eccetera. Noi dobbiamo stare attaccati il più a lungo possibile davanti a quelli davanti, con tutte le nostre forze, con i denti, con le unghie. Poi il campo dirà, facciamo crescere questi ragazzi, io sono contentissimo di questo progetto che mi ha messo in mano il presidente e il direttore. Lo vediamo tutti, è talmente bello vedere un 2004 della Spagna che gioca al centroavanti nella formazione titolare, quindi diamo continuità, diamo coraggio a questi ragazzi e non mettiamo sulle spalle dei pesi inutili perché non ha nessun senso, perché è così. Se poi vogliamo l'uovo e la gallina insieme, vogliamo la botte piena e la moglie ubriaca, volete che me ne faccia un'altra un po' più volgare, vogliamo quelle che passano tutti i vergini, allora non sono in grado di moltiplicare le cose come faceva uno. Di conseguenza stiamo calmi, stiamo calmi, portiamo il nostro mattoncino giornata per giornata, giorno per giorno, lavoriamo bene, siamo su un bel ambiente e rimaniamo tutti dalla stessa parte perché se carichiamo troppo di responsabilità i ragazzi va a finire che non va bene, va bene perché non hanno neanche l'esperienza per… e ci sono i vecchi che stanno dando una grossa mano, tra l'altro perché se 7 giocatori su 10 del 2001-2002 fanno 7 gol, vuol dire che i vecchi stanno dando una grossa mano e li stanno aiutando, magari anche a discapito loro, perché sono delle bravi persone, perché si mettono a disposizione, perché sanno ci sono dei momenti in cui devono uscire perché facciamo un minutaggio e di conseguenza fa parte della regola. Fiorenzo, Radogna, mi senti? Sì, sì, ti sento, non mi vedete, ho dei problemi con il suo, ma l'importante è che ci sentiate. Sì, sì, ciao, 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 mister. Ecco, l'importante col Padova è veramente sentirsi sgravati di molte responsabilità, perché Padova ha veramente una cosa impressionante, è partito molto bene, lei con la squadra forte decisamente, però insomma la partita è di quelle da godersi, totalmente, sono molto forti sulle fasce, ma veramente forti. Sì, sono completi, hanno rinforzato tutte le parti rispetto all'anno scorso, che comunque sono arrivati i primi, non dimentichiamolo, ma al di là di quello, è un buon test per noi, per capire a che punto siamo e, come hai detto tu, non abbiamo delle grandissime responsabilità domani, però dobbiamo affrontarla con il piglio giusto, con l'intensità giusta, con l'aggressività, con tutte le cose che abbiamo messo in qualche partita e che in altre partite, come ho detto prima, ci siamo un po' specchiati su delle cose nelle quali non dovevamo farlo, tipo andare a chiudere un'azione in otto. Cioè, ho capito che bisogna essere coraggiosi, però se hai la forza di chiudere l'azione poi devi avere la forza di tornare anche indietro, quindi più equilibrio e più concreti, più cinici. Sicuramente pubblico delle grandi occasioni. Sì, speriamo. Sono contento che hanno anche aumentato al 75% la capienza e al coperto al 60%. Di conseguenza, bene dai, in generale, vuol dire che stiamo tornando finalmente a questa normalità e sono contento per quello a di là della partita, perché veramente vedere la gente allo stadio non fa che aprire i cuori di tutti, perché ormai siamo stanchi di questa situazione, non solo nel calcio, ma parlo di tutti gli ambienti lavorativi, quindi finalmente si respira un po' di aria, un po' più sana e salva. Sicuramente. Grazie, grazie. Grazie, perfetto. E dice, tra l'altro degli accorgimenti tattici particolari per questo partito, oppure chiedere ai ragazzi semplicemente di giocare come Sam? Sì, l'importante è essere un po' più compatti, come ho detto prima, nel senso si attacca insieme e si difende insieme nel momento in cui la forza di attaccare, dopo devi essere in grado di difendere, che sei un centrocampista, che sei un attaccante, che sei un difensore, di conseguenza reparti, belli e compatti e cerchiamo di fare la nostra partita, non è che perché arriva il Padova dobbiamo snaturarci e abbiamo, ci sono nato belle azioni con qualsiasi tipo di squadra, ripeto, con la Triestina no, e quindi dobbiamo migliorare questa cosa qua perché siamo sulla falsa riga come tipo di squadra. Davide, cosa hai una domanda? Sì, sì, assolutamente. Intanto chiedo agli indisponibili. Battistini, Battistini non ce l'ha fatta domenica, è entrato al posto dei Mardorati che non ce la faceva più e è uscito piangendo perché aveva il piede veramente messo male e sono Battistini comunque per il resto. L'Acti è l'Ora, ovviamente. L'Acti è in nazionale, l'Ora è squalificato, poi per il resto Sparandeo, Purro, Galli, eccetera, sono tutti a disposizione in panchina. Davide, la domanda, la coperta un po' corta a centrocampo, come ha intenzione di impostare contro il Padova? Le posizioni sono quelle, c'è Klai e Masini che hanno fatto la partita a Trieste, sanno quello che è andato e quello che non è andato, abbiamo parlato e fatto tante cose su questo. C'è un grande affiattamento su tutti i reparti per fare in modo che mettere in condizione i giovani di fare una grande partita e poi dobbiamo andare dentro spensierati e pensare di far bene, come ho detto prima. Ognuno deve portare il mattoncino perché gli eroi chiudere l'azione in otto non ci servono perché gli eroi sono morti tutti e quindi bisogna cercare di essere consapevoli dei pregi e dei difetti perché non è che non abbiamo difetti e abbiamo dei pregi. bisogna cercare di migliorare i pregi e migliorare i difetti. Roberto, Frigerio, hai una domanda? Sì, salve mister. Una domanda sul Padova. Sì. Lo scudrone, ma quello non si sa cosa può dire. Sì, sono tutti compatti in tutti i reparti, possono giocare con qualsiasi modulo e l'hanno anche fatto perché hanno fatto una base di 4-3, però qualche partita sono andata via 3-5-2, qualche partita 3-4-1-2 e quindi hanno nove attaccanti, voglio dire, non è che hanno punti deboli, si sono rinforzati rispetto all'anno scorso che sono arrivati a Parimarito col Perugia. Però, ti ripeto, il calcio è bello per quello, è bello vedere nel 2004 che gioca al centroavanti nella nazionale spagnola e quindi bisogna cercare di dare forza a questi progetti con tutte le difficoltà del caso e ci sta questo percorso altalenante, perché non è che non lo dico, però è così. Nel momento in cui avrai fra un po' di tempo la possibilità di aver inserito bene questi ragazzi, ne avremo degli altri che sono bravi e per il momento non sono ancora pronti, però sono bravi, quindi è solo una questione di tempo e il progetto fatto dal presidente e dal direttore sta dando i frutti perché 7 gol su 10 fatti dai giovani, non è che in Italia penso che ce ne siano tante altre squadre che ha fatto questa cosa qua, quindi sono contento per quello, sono contento, ripeto, per i giovani, ma sono contento soprattutto per il gruppo vecchio perché se il giovane rende e è bravo vuol dire che il vecchio l'ha messo in condizione di fare questo e il vecchio parlo di tutti i reparti, compresi gli attaccanti. Lanfredo, Lanfredo Birelli, se hai una domanda? No, sono fatto così, grazie. Altre domande da qua? Io sì. Lo so che non ne vuoi parlare, però diciamo che l'arbitro ha precedenti negativi con entrambe le formazioni recenti a maggio con il Padova a Trieste e anche con l'Ecco c'è stato un presidente negativo proprio qua. Cinque anni di reazione sono tanti, è un profilo importante, però può essere un fattore? Non voglio mentalmente pensarci, spero che la mia squadra faccia una grande partita e mi auguro che sia una partita leale, mi auguro che, anzi non vorrei neanche vedere i massaggiatori in campo, parlo della mia squadra, voglio vedere i giocatori che si alzano come i berilli del bullying, quelli che si auto, che si tirano su da soli, mi stavo incartando e basta. Pensiamo a giocare la partita e a fare in modo che sia un grande spettacolo, soprattutto per la gente che viene a vedere e finalmente ci saranno sicuramente più persone perché hanno messo che non piove e in più che hanno aperto la capienza, quindi mi auguro quello, che ci sia un grande tipo da parte dei nostri tifosi e che noi siamo in grado di reggere il confronto con una squadra forte. Grazie. Tante domande? Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie ragazzi. Ciao ragazzi, grazie. A presto.